E' lui, e' lui, l'abbiamo trovato? Il cibo è tipicamente californiano. Ah, aspetta un cazzo qua, eh. Dopo preparo, eh. Ah, no, finirà. Ah, no, te vedi? Ah, sì, sì. Ah, sì, era solo questa. No, è lui, e dialtra volta. Sì, sì, sì. Grazie a tutti 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 Cambio Cambio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti